Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, rallentamenti a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Uno sguardo ai treni si comunica che dalle ore 12 di oggi è stata riattivata la circolazione dei treni tra Marradi e Faenza. Città di Firenze è giornata dedicata alla presentazione delle squadre del Tour de France, chiuso al transito Viale Galilei tra Piazzale Michelangelo e Piazzale Galileo, chiusa anche Piazza Poggi tra Lungarno Cellini e Lungarno Serristori. Chiusura prevista anche in Borgo Santa Croce, oltre Piazza della Signoria e Piazza San Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!